Un dramma, quello che si è consumato ieri sull'autostrada Palermo-Messina, che riporta all'attenzione il problema della chiusura dei punti nascita degli ospedali del comprensorio tirrenico nebroideo. Intorno alle 14, una 37enne di Mistretta, alla 27esima settimana di gestazione, ha partorito subito dopo aver imboccato l'arteria autostradale a Santo Stefano di Camastra, mentre accompagnata dal marito in auto tentava di raggiungere l'ospedale di Patti. Il bambino prematuro sarebbe nato vivo, ma non ce l'ha fatta ad arrivare all'ospedale più vicino. Tutto è iniziato quando la donna, accusando forti dolori, è partita dal centro montano per raggiungere in auto il barone Romeo di Patti, a circa 90 km, ospedale dotato di punto nascita e utin. Ma dopo aver imboccato la venti, la coppia è stata costretta a fermarsi e a chiedere aiuto per il sopraggiungere del parto. Scattato l'allarme sul posto, sono arrivate le ambulanze del 118, partite da Santo Stefano di Camastra e Mistretta. La prima soccorse il bambino, i sanitari hanno cercato di rianimarlo, ma il piccolo è morto durante la corsa verso l'ospedale più vicino, quello di Sant'Agata Militello. La donna invece è stata condotta al barone Romeo di Patti, dove adesso è ricoverata. Sul posto una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Sant'Agata Militello. Sulla vicenda la procura di Patti ha aperto un fascicolo, disponendo l'autopsia sul corpo del piccino per stabilire le cause della morte. La salma è stata trasferita per questo al policlinico di Messina. Una vicenda che ha scosso le comunità del comprensorio, che si sentono scippate dai reparti nascita, chiusi prima a Mistretta e poi anche a Sant'Agata Militello, e che hanno inondato i social con messaggi di solidarietà alla famiglia e di protesta. Sarà l'autorità giudiziaria ad accertare cosa sia accaduto, ma occorre tutelare le gestanti dei comuni, dei distretti sanitari di Sant'Agata Militello e Mistretta, che hanno diritto a condurre le gravidanze in sicurezza e ad avere accesso alle cure dei sanitari in tempi ragionevoli, considerate le caratteristiche dei territori e lo stato della viabilità. Il caso è arrivato sul tavolo del Ministro della Salute Speranza, informato dal deputato Maria Flavie Timbro e dal segretario provinciale di articolo 1, Domenico Siracusano. Intanto ieri a Mistretta, il sindaco Tata Sanzarello e il presidente del Consiglio Nucera hanno indetto un consiglio comunale straordinario, aperto alla partecipazione di tutti i sindaci del comprensorio.